Boruto e Kawaki sono due minacce per Konoha Shikamaru finalmente espone la sua visione I due ragazzi vengono usati con l'inganno per sorvegliare Eida Ma cosa cavolo sta succedendo in Boruto? Lo commenti anche tu Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a Boruto Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i video E grazie mille ragazzi per tutte queste numerose iscrizioni Se non sei ancora iscritto iscriviti e aiutaci a raggiungere i 70k Grazie di cuore ragazzi Ci siamo immersi nella lettura di un articolo molto interessante su screenrant.com L'autore del post Francesco Cacciatore Il nome è italiano e il post era tutto in inglese però L'autore del post sostiene che Boruto stia invertendo la più grande lezione del manga di Naruto Vediamo un po' di chiarire il concetto Nel manga di Naruto vediamo il protagonista lottare per essere accettato Il suo problema è quello che viene visto come un pericolo Naruto è infatti la forza portante della Volpa Nove Kode Viene visto dal mondo come un'arma, un pericolo E il desiderio di Naruto è quello di abbattere questi pregiudizi Di essere accettato da tutti come essere umano Naruto desidera farsi degli amici e diventare Hokage appunto per crearsi la sua posizione nel mondo Ma quello che abbiamo visto nel capitolo 73 del manga di Boruto invece ammazza tutte queste idee Sia Boruto che Kawaki vengono definiti come bombe Pronte ad esplodere! Bang! Sono considerati due armi pericolose E a loro viene affidata una missione Quella di sorvegliare Eida In questo modo Shikamaru li manda a convivere con la ragazza In modo tale da poterla sorvegliare Mentre loro vengono a loro volta sorvegliati da Mitsuki e Sarada Ecco l'autore dell'articolo che abbiamo letto sostiene che questo atteggiamento Vada contro il messaggio più importante che veniva trasmesso da Naruto Ed effettivamente non ha tutti i torti Boruto va in una direzione differente rispetto a Naruto E questo capitolo ne è proprio una prova Alla fine del capitolo Sasuke chiarisce la situazione Dicendo che in realtà questa missione equivale a mettere agli arresti domiciliari Sia Boruto che Kawaki E' un modo quindi di tenerli sotto sorveglianza Senza che loro se ne rendano conto Boruto e Kawaki quindi vengono davvero trattati come due personaggi pericolosi Come due bombe Vengono isolati per assicurarsi che Konoha non sia in pericolo E cosa dobbiamo pensare di tutto questo? E' sbagliato questo tipo di atteggiamento da parte dei ninja più anziani? Davvero facendo così stanno ripudiando quello per cui hanno lottato in passato? La situazione è davvero pericolosa Kawaki ha un potere davvero grande E se solo lo volesse potrebbe diventare una seria minaccia Boruto da un momento all'altro potrebbe essere controllato da Momoshiki Divenendo così un pericolo per tutti Quindi è sbagliato prendere qualche precauzione? Delle differenze rispetto al manga di Naruto ci sono Inizialmente si potrebbe pensare una cosa ma non si tratta in questo caso di tenere in isolamento Boruto e Kawaki perché si ha paura di loro Non è la stessa cosa che evitare il contatto con Naruto perché si pensava alla volpe a nove code Secondo le parole di Naruto Gli arresti domiciliari servono a tenere Boruto e Kawaki sotto controllo Sapere dove si trovano sempre Evitando quindi che i due si possano lanciare senza preavviso in una caccia contro Code E morire chissà dove La loro quindi è una forma di protezione verso questi due ragazzi E non una sorta di protezione rivolta solo al villaggio Certo avendo tutti e due comunque rinchiusi in un solo posto ed essendo comunque monitorati La protezione si estende anche al villaggio nel momento in cui questi due potrebbero prendere il controllo Certo c'è da dire che rispetto al mondo di Naruto in Boruto le cose sono cambiate E' più facile adesso accettare chi è diverso e chi ha un potere più grande Non è come Naruto in cui chi aveva abilità particolari veniva isolato ed etichettato Naruto ha lottato per vincere contro questa diversità e ha vinto In Boruto questo tema viene affrontato soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Kawaki Per questo il settimo lo ha preso come un figlio Per questo ha cura di lui Perché diciamolo gli ricorda come veniva trattato lui da bambino E si purtroppo come dice l'articolo che abbiamo letto su ScreenRant.com Un po' si ritorna ai problemi di una volta Quando un personaggio potenzialmente pericoloso viene etichettato come una minaccia Che è quello che accade comunque nel caso di Kawaki Al momento quindi si sta riaffrontando di nuovo questo tema Naruto come sappiamo ha vinto dimostrando di non essere così Dimostrando di non essere un pericolo e si è fatto accettare da tutti Per quanto riguarda Kawaki sarà lo stesso? Dimostrerà a tutti che si sbagliano O a differenza del manga di Naruto Stavolta ad avere ragione sarà la gente con i suoi pregiudizi? Se fosse così purtroppo l'autore dell'articolo ha ragione Boruto sta invertendo un messaggio importante di Naruto Bisogna però anche considerare il contesto E capire perché per Naruto è andato in un modo E per Kawaki invece sta andando in un altro modo Ma per sapere questo dobbiamo prima andare avanti con la storia E vedere cosa spingerà Kawaki a fare le sue scelte Alla fine del capitolo abbiamo una bella apparizione a sorpresa di Momoshiki Che poteva anche essere disegnata meglio secondo me Poteva farla anche un po' più inquietante Invece sembra così buttato a Muzzo a casa Lascia stare che quando c'è stata l'inquadratura quella zoomata Io ho notato la presenza di Momoshiki Poi però facendo un passo indietro ho visto che già Momoshiki era presente tra di loro Eh sì ma era così brutto da caso Poi è piccolissimo Sì è piccolo Era tipo un nano malefico Sì che cosa Che brutto dai Stavolta lo Tsutsuki non viene notato da Boruto Ma da Kawaki E da Sasuke anche se a distanza Sasuke percepisce la stessa sensazione del passato Quando ha visto Momoshiki Come mai lo Tsutsuki si è manifestato? È segno che ormai manca poco al momento in cui prenderà il pieno controllo di Boruto? Tutto questo Porterà Kawaki ad affrontare l'amico controllato da Momoshiki? Questo finale così con questa scena Sembra preannunciarci proprio quello che accadrà nel corso di questa convivenza con Eida Nel capitolo precedente Momoshiki aveva già avvisato Boruto Gli aveva detto che comunque avrebbe preso il controllo del suo corpo E ora durante il loro primo incontro Dopo essere tornato in vita Anche Kawaki possessore del karma Ed essendo anche lui uno Tsutsuki Si accorge della minaccia di Momoshiki Purtroppo manca poco Lo scontro tra Kawaki e Boruto sembra inevitabile E non sappiamo se sarà proprio questa A peggiorare la posizione di Kawaki al villaggio della foglia E voi ragazzi cosa ne pensate? Scriveteci la vostra nei commenti E con questo è tutto Ragazzi prima di lasciarvi vi diamo qualche avviso Sul sito Pop in a Box Con il quale noi abbiamo la collaborazione Siamo affiliati E' arrivata la nuova collezione dei Funko Pop di Naruto E potete trovare anche dei Funko Pop della serie Boruto Quindi dateci un'occhiata Vi mettiamo il link in descrizione E ad ogni acquisto supporterete direttamente il nostro canale YouTube Inoltre vi ricordiamo che il 29 settembre ragazzi andiamo al cinema a vedere Dragon Ball Super Super Hero Noi siamo di Catania quindi lo andremo a vedere a Catania E pertanto ci piacerebbe tantissimo invitare anche voi se abitate ovviamente a Catania e dintorni Appuntamento ore 20 all'Ucicinema di Catania Per vedere il film delle 21 e 15 Ma perché vederci alle 20 se il film è alle 21 e 15? Vabbè ragazzi ci incontriamo, ci salutiamo, scambiamo due parole, ci conosciamo Brutto no arrivare all'ultimo orario ed entrare subito Quindi ci vediamo un po' prima in modo tale da passare un po' di tempo insieme Vi consigliamo ragazzi se decidete di partecipare Di acquistare prima in anticipo il biglietto online Perché non lo possiamo sapere poi se quel giorno magari si venderanno tutti i biglietti E poi non ci sarà modo di vedere il film insieme Quindi viene al cinema con noi e anche in questo caso vi mettiamo il link in descrizione Se desiderate acquistare tutti i volumi di Boruto pubblicati in Italia In descrizione trovate il link Amazon Ammazza che descrizione confusionaria Se questo video ti è piaciuto metti un bel like Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video Alla prossima Alla prossima ragazzi